Questa ve la devo proprio raccontare. Si tratta di una notizia che abbiamo dato qualche giorno fa sul Cryptonomist e che secondo me è davvero molto curiosa e molto interessante. Eccola qua. Stiamo parlando di una compagnia navale giapponese, tra l'altro la più antica e la più grossa di tutto il Giappone e una delle più importanti del mondo. Questa compagnia navale ha un problema, che è quello di trovare un modo per pagare gli stipendi ai dipendenti che sono a bordo delle navi. Infatti, quando i dipendenti stanno a bordo delle navi e a fine mese gli deve arrivare lo stipendio, come si può fare a farglielo arrivare in giro per il mondo? Oltretutto c'è un altro problema. La maggior parte dei dipendenti di questa società non sono giapponesi, hanno tantissimi filippini e tantissimi cinesi che vogliono essere pagati nella loro valuta. Quindi questa società che cosa deve fare? Deve trovare il modo per pagarli a fine mese, ovunque siano, nella loro valuta. Sapete qual è la soluzione che adottano oggi? È banalissima. Quando le navi salpano, depositano delle belle mazzette di contanti nella cassaforte della nave e poi a fine mese il capitano o chi per lui va a prendere questi contanti dalla cassaforte della nave e li distribuisce e dà a mano ai marinai, ai dipendenti che sono imbarcati nelle rispettive navi. Questo ovviamente, come potete immaginare, ha tutta una serie di problemi. Non per ultimo quello che queste navi vanno in giro per il mondo con circa 40, 50, 60 mila dollari in contanti nelle cassaforti e magari navigano in mari che sono infestati dai pirati perché dovete sapere che i pirati esistono ancora oggi e purtroppo rubano e assaltano le navi e rubano quello che c'è da rubare oppure le sequestrano e chiedono un riscatto. Ma la cosa davvero interessante è la soluzione che stanno studiando. Vogliono emettere una stablecoin ancorata al dollaro, cioè una criptovaluta che però abbia un valore fisso in dollari in modo da poter pagare queste persone in giro per il mondo semplicemente via internet con un'app e dalla sede centrale. Cioè in poche parole, tutti i dipendenti potrebbero avere semplicemente un'app sul loro smartphone sulla quale gli verrebbe inviato a fine mese lo stipendio sotto forma di questa stablecoin. Ovviamente questo è solo uno studio, non si sa ancora se lo faranno, però ovviamente come avrete capito il problema, questi ce l'hanno, è un problema serio e in effetti la stablecoin potrebbe essere la soluzione, una soluzione che potrebbe anche non essere poi così tanto complicata nel senso che una volta che la stablecoin è emessa è facilissima effettuare queste transazioni, perché comunque su queste navi che girano per tutto il mondo la connessione ad internet c'è, c'è una connessione satellitare, quindi ovunque sono, sono connessi ad internet e quindi possono ricevere queste transazioni sulla loro app. e poi ovviamente tramite queste stesse app potranno, questi dipendenti che ricevono lo stipendio in questo modo, anche inviarsi dei soldi tra di loro. Secondo alcune fonti anonime, questa soluzione potrebbe arrivare nella prima metà del 2019, cioè entro giugno del 2019. Tra l'altro, una volta che dovesse riuscire a creare questa stablecoin e a rilasciarla, in effetti potrebbe usarla chiunque, insomma, la potrebbe usare non solo loro, ma anche altre, magari, altre società che hanno dei problemi simili e magari sempre nello stesso identico modo. Forse uno dei problemi principali sarà quello di assicurarsi che questa stablecoin possa anche essere convertita in valute fiat locali, quindi che questi marinai che ricevono lo stipendio in stablecoin possono, ad esempio attraverso un exchange, cambiarla nella loro valuta locale. Quindi potranno utilizzarla senza cambiarla oppure volendo anche cambiarla. Tra l'altro, sono stati effettuati dei test tecnici che hanno dato risultato positivo, quindi lato tecnico potrebbero non esserci particolari problemi, ovviamente bisognerà semplicemente assicurarsi che questa soluzione piaccia anche ai dipendenti che vengono pagati e che per loro sia magari anche più comoda che non la soluzione standard, perché comunque andare in giro con i contanti o doverli nascondere in un posto sicuro all'interno della nave non è che sia poi il massimo. Come avrete capito, siamo solo all'inizio. Queste tecnologie, cioè quelle delle criptovalute, probabilmente rivoluzioneranno il mondo, insomma creeranno moltissima innovazione, probabilmente nel corso dei prossimi anni le useremo in qualche modo tutti, ma magari in modi curiosi o differenti da quello che crediamo e soprattutto da quello che sono adesso, cioè da come li usiamo adesso. Ah, un'ultima cosa, questa stablecoin non c'entra niente con bitcoin. Come al solito, se avete dubbi o domande, scrivetemi via email perché via email io rispondo sempre. Un saluto, ciao!